In diretta c'è la rassegna stampa in questo giorno 25 aprile, siamo a sabato, buon fine settimana a tutti voi, ben ritrovati cari telespettatori, sul 17 c'è l'informazione in diretta dopo la messa del Papa e rassegna stampa che troverete anche sui nostri social on demand, in qualsiasi momento potrete andare a rivederla e a riascoltarla, compreso il nostro sito occhialanotizia.it. Facciamo gli auguri oggi a coloro che portano il nome di Marco perché oggi è San Marco Evangelista, San Marco Evangelista che a Gerusalemme da prima accompagnò San Paolo nel suo apostolato, poi seguì i passi di San Pietro che lo chiamò figlio, si tramanda che a Roma abbia raccolto nel Vangelo da lui scritto le catechesi dell'Apostolo e che abbia fondato la chiesa di Alessandria. Il sole è sorto questa mattina alle 6.08, tramonterà alle 20.04, sole che splenderà su tutta la regione Marche con qualche nuvolamento, con qualche addensamento consistente soprattutto sull'Appennino, ma insomma per il resto avremo soprattutto sul Pesarese e sul San Benedettese sole pieno e le temperature sono in aumento, oggi un po' di vento lungo la costa. Per la giornata di domani, domenica 26 aprile, ancora tempo buono a parte qualche velatura, qualche addensamento, ma non si esclude domani qualche breve rovescio pomeridiano limitatamente ai Monti Sibillini. Per lunedì 27 invece ci sarà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, con temperature senza variazione di rilievo. Tempo stabile anche se c'è un possibile graduale peggioramento nel tempo nella parte centrale della prossima settimana. Vediamo un attimo le temperature previste alle 2 del pomeriggio di oggi. Vedete sono tutte temperature al di sopra dei 20 gradi sulla costa, Ancona 21, Pesaro, Fano 23 gradi, 23, 24, insomma comincia a essere piuttosto caldo. Senigallia segnerà 22 gradi e per quanto riguarda invece la giornata di domani un grado in meno rispetto, un grado 2 in meno rispetto alla giornata di oggi. Allora, tutti i ristoranti sono chiusi in tutta Italia, ce n'è uno solo aperto ed è quello della Camera dei Deputati. C'è anche chi si lamenta che la pasta è scotta, il cibo è scotto. Questo è il titolo, anzi la fotonotizia del resto del carlino alla pagina nazionale. L'unico ristorante riaperto, come dicevamo, è quello della Camera. Il menù completo costa 6 euro, ma i deputati si lamentano appunto che il cibo è scotto. Intanto viaggi, bar, negozi, c'è chi riparte. Per esempio quelli del Veneto, da oggi basta limitazioni. Milano punta sui tavoli all'aperto e abbassa i limiti di velocità urbani. Dal 4 di maggio autocertificazione solo per andare in altre regioni. L'economia, l'agenzia di rating comunque ci danno fiducia. Il patto per riaprire prima il Corriere Adriatico edizione di Pesaro dal tessile al calzaturiero, accordo imprese e lavoratori per giocare d'anticipo sul via teorico del 4 di maggio. Ma la fumata nera tra governo e sindacati tiene ferma la moda. Si tratta per avviare almeno i campionari. Noi pronti invece per giugno, siamo già all'opera, dicono i bagnini di Pesaro che approfittano del fine settimana di sole del 25 aprile per lavorare alla manutenzione degli stabilimenti balneari come fa appunto Sabina, anzi Cardinali, che vedete nella fotografia qui con la mascherina. E poi il racconto del medico Benelli che dice ce l'ho fatta ma ora la vita sarà diversa. Era positivo il Covid-19, insomma anche lui racconta la sua terribile esperienza. Civitanova invece per quanto riguarda l'ospedale No Covid che comunque va avanti, sarà l'unico ospedale poi che raccoglierà, prenderà, curerà i malati di tutta la regione. C'è questo retroscena che racconta oggi il Corriere Adriatico, ovvero l'attacco, lo strano attacco di Alessia Morani, del PD, al Dem Ceriscioli. Ceriscioli che comunque va avanti, convinto di realizzare questo ospedale. Andiamo sulla pagina invece di Pesaro del Carlino. Anche qui vedete la fotonotizia per Piero Benelli, noto medico dello sport, dalla paura alla guarigione. Così ho vinto contro il virus, ma c'è anche la cronaca legata al coronavirus perché una donna malata di Covid è stata picchiata dal marito. Una sessantenne, i medici hanno scoperto i lividi al momento del ricovero. Altra violenza anche ad Urbino. Le minacce al sindaco di Pesaro Matteo Ricci. La Digos cerca il DNA dentro la busta. Le analisi sono affidate alla scientifica. E poi giro di vite del comune, sempre a Pesaro, offese sui social network. Attenti, dicono, ora vi quereliamo. E se vinceremo la causa, ovviamente poi i soldi saranno destinate alle persone che hanno bisogno. L'epidemia però non molla, attenzione, attenzione. Nuovo aumento dei positivi e altre quattro persone sono decedute nella giornata di ieri, tutte donne, due di Fano. Siamo sulla pagina, siamo a centro pagina. La direttrice di Villa Fastigi, la protesta, dice dentro il carcere, qui è finita. E poi i ristoratori che sono preoccupati per mangiare in un locale gli stessi controlli di un triage. Pare davvero improbabile che la gente, almeno per adesso, vada, anche se riapriranno all'interno, vada al ristorante. Poi anche qui la Morani contro Ceriscioli, diamo ai nostri ospedali soldi raccorti per Civitanova. Ricordo che per Civitanova serviranno, sono stati raccorti al momento 7-8 milioni di euro. Parchi ripuliti e pronti invece alla riapertura. Si parla della città verde, Aspes e Comune di Pesero stanno allestendo il Miralfiore, Orti Giulia e i giardini di quartiere. Poi la stagione turistica incerta, bagnini smarriti, ombrelloni. Quanti ne avrò, quanti ne potrò mettere? Alcuni clienti chiedono già di prenotare, ma i titolari non possono ancora dare risposte. Entriamo nelle pagine interne. 6 mila contagiati, ma i reparti Covid si stanno svuotando. Ieri 78 casi positivi, con un leggero rialzo, ma inferiore alla media nazionale. Si è liberato un letto su tre, ora i ricoverati sono 766. Le vittime salgono a 874. Tra gli ultimi nove morti, uno iesino di 56 anni, senza altre patologie. La provincia di Macerata ha avuto più positivi di quella di Ancona. E ancora, dal Corriere, Morani apre il fuoco amico contro il compagno Luca. Civitanova, dice la Morani, ora non serve. La sottosegretaria ha mise all'attacco di Ceriscioli sul Covid Hospital. Pensiamoci meglio, dice l'Alessia Morani, c'è disagio in giro. Come dire, ci sono persone che hanno bisogno di soldi. Noi andiamo a costruire un ospedale che non sappiamo se servirà o meno, visto che le terapie, grazie al cielo, si stanno svuotando. Ma non è un attacco, tiene a precisare, un attacco politico. Meglio utilizzare le donazioni dei marchigiani per rafforzare gli ospedali esistenti, come fa l'Emilia Romagna. E ancora, i dubbi della sottosegretaria. Se servono strutture dedicate, perché non pensare a Villa Fastigi o a Campo Filone, dice appunto la Morani. Intanto anche il Carlino fa il punto della situazione sui contagi, sui guariti, guariti che sono in crescita. Così come purtroppo dicevamo anche i contagi, almeno nella giornata di ieri. Ma calano invece i malati gravi. Si sono avuti 27 casi in più di positivi ieri, ma è confortante che le terapie intensive si stiano svuotando. Quattro i decessi nella giornata di ieri. Intanto una miriade, davvero tantissima gente ancora isolata in casa. In quarantena ci sono 4.373 pazienti. e oltre la metà sono sintomatici. La previsione zero continua a far discutere quella previsione lanciata, effettuata dall'Osservatorio Nazionale. La polemica che dunque si rimpala tra Ancona e Roma. Zero contagio a giugno, aveva detto l'Osservatorio Nazionale, che si difende oggi e che difende quella data. Il responsabile della ricerca, Solipaca, dice e ribatte il Presidente Ceriscioli, che ha anticipato a maggio invece la fine del virus. Il responsabile per conto dell'Osservatorio conclude considerando che il numero di nuovi contagi è probabilmente sottostimato a causa dell'assenza degli asintomatici, i più pericolosi, perché ignorano il loro stato e oltre a non entrare nelle statistiche possono però contagiare molto, molto più degli altri. Scrive Simona Spagnoli questa mattina in questa pagina tutta dedicata appunto ai contagi. Andiamo adesso a leggere, questa è un'altra pagina del resto del carino, interessante, perché innanzitutto adesso si cerca il virus ovunque e quindi tutto ciò che viene in mente e tutte le domande che si pongono sulla questione diffusione, visto che saremo chiamati a tornare alla libertà tra qualche giorno, dopo il 4, adesso ci si fanno mille domande. Per esempio l'aria condizionata veicola il morbo, il virus? Non ci sono prove. Sconsigliati i ventilatori però appale. Se nella stanza c'è una persona ovviamente contagiata possono infatti questi ventilatori propagare l'infezione. I virologi sono divisi appunto sull'aria condizionata, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, alla giusta distanza e indossando le mascherine il pericolo si azzera quasi del tutto. Poi c'è un altro aspetto invece, quello della zanzara, ecco qua. Anche qui bisogna fare attenzione. La zanzara, mettiamocelo per il momento bene in testa, non diffonde il virus, perché tanti in questi giorni, proprio anche con l'arrivo del caldo, insomma, anche noi hanno scritto, ma fate qualche servizio sulla zanzara, eccetera, eccetera. Ora, non ci sono anche qui, non ci sono teorie precise, scientifiche, eccetera, però la zanzara, per il momento sono quasi tutti d'accordo, non diffonde il virus. Parla in questo caso il microbiologo, che tra l'altro dice la disinfestazione è utile, ma non per il Covid. La zanzara può diffondere malattie pericolose nell'uomo, ma non la Covid-19. Lo dice Pierangelo Clerici, che è il presidente dell'Associazione Microbiology Clinici Italiani. Non ci sono evidenze della presenza del coronavirus nelle zanzare, possiamo dire che non sono un vettore attivo o passivo. Esistono altri vettori intermedi? Assolutamente no. Dice quel virus ha fatto il salto di specie dal pangolino all'uomo, punto e basta. Gli animali, anche quelli domestici, non sono dei vettori. E la zanzara tigre? Beh, la zanzara tigre trasferisce un arbovirus che a sua volta provoca febbre e dolori muscolari, ma non è Covid-19. Quindi se c'è la zanzara bisogna avere attenzione con dei repellenti, eccetera, per tutto il resto, ma non per il Covid. Questa è invece la pagina che ha curato. Sono due belle interviste, Camilla Cataldo, del Corriere Adriatico. La prima intervista è con Piero Benelli, medico della squadra di basket VL, che dice, ce l'ho fatta, ma la vita ora sarà diversa. Da ieri è ritornato anche al lavoro, il medico, guarito insieme all'amico e collega Massimo Mancino. L'articolo su Massimo Mancino, eccolo qua, il cardiologo, il quale dice, adesso di nuovo, tornato anche lui al San Salvatore, sono guariti tutti e due insieme, allo stesso giorno, racconta quando è iniziata. Lui dice, per fortuna non sono stato ricoverato, ma la paura, dice, l'ho avuta anch'io, quando hai a che fare con un virus che ti può fare solletico, così come uccidere. E muoiono pazienti, conoscenti, colleghi, amici. Ho avuto, racconta Massimo Mancino, che ripeto, a 45, che lavora al San Salvatore, dopo 45 giorni, dopo 45 giorni, risultato negativo. Cardiologo, medico della VL, ha superato così il Covid, dicevo, ha avuto febbre alta, tosse, debolezza, dissenteria, mi sono ritagliato della casa, una parte della casa solo per me, e lunedì torno al lavoro in ospedale. Ecco, lui non sa risalire a dove si sia ammalato, però a gennaio-febbraio, racconta, ci sono state polmoniti molto brutte nel mio reparto al San Salvatore di Pesolo, con alcuni morti quando al virus non si pensava. La possibilità di contagio, le possibilità di contagio sono state soprattutto dopo le final eight. Lì si è creato il grosso focolaio, poi alimentato. Sono convinto che il Covid-19 da quell'evento girasse in maniera importante, dice ancora Mancino. Io ho accusato i primi sintomi sfumati a fine febbraio e dal 5-6 marzo ho avuto la febbre a 39. E poi alla domanda si parla del pericolo di una nuova ondata a settembre. Lui risponde, beh, è bene non stare a sentire le previsioni, ognuno fa le sue, bisogna uscire da questa ondata, poi si vedrà. Chi è già stato colpito ha minor possibilità di ricaderci? Lui risponde, nel breve periodo sì, ma non abbiamo certezze. C'è una immunità di qualche mese. L'esame seriologico? Seriologico per chi è guarito è inutile, per chi è guarito non serve, abbiamo gli anticorpi, vale invece per chi non sa se lo ha avuto, e per i medici e tutte le persone più esposte. Per il test, se il test poi sarà positivo, si sottoporranno a un tampone per escludere la malattia in corso. Ma, ripeto, Camilla Cataldo, sia questa intervista, ma anche questa, a Piero Benelli, sono due servizi molto interessanti che vi invito a leggere, acquistando il giornale questa mattina. Sempre il Corriere Adriatico, da Fano fino a New York, affronto il virus in corsia, parla il cardiologo Francesco Rotatori, 44 anni, è in servizio al Richmond University Medical Center e ha seguito le orme del padre Paolo. Ci sentiamo la mattina e ci scambiamo gli aggiornamenti. Dice oggi va meglio, oppure oggi insomma così così, sarà difficile, sarà dura. E parla di questa onda d'urto dei malati Covid nella Grande Mela, nella città di New York, tra le più colpite negli Stati Uniti. Si è fatta sentire questa onda d'urto successivamente rispetto alla tempistica italiana, ma adesso abbiamo visto, gli Stati Uniti hanno già un bollettino pesantissimo, oltre 50 mila morti. Francesco Rotatori, dicevamo, lo vedete nella fotografia, ha sposato quattro figli, si è laureato a San Raffaele di Milano, e dopo la specialistica ha capito che la sua strada per la ricerca poteva essere l'America. E così ecco la possibilità offerta dall'Università Americana e sfruttando la sua competenza maturata da specializzando a Staten Island, è stato assunto come emodinamista. E quindi anche qui Rotatori racconta un po' la sua esperienza a New York, negli Stati Uniti. E c'è un boom di richieste invece per i test sierologico. C'è una grande richiesta, ma i medici di base sconsigliano ai propri pazienti di sottoporsi all'esame. Si sta innescando un meccanismo con richieste a catena, dice il dottor Marco Delbianco, che coordina anche l'attività dei medici a domicilio USCA, e che sta pensando ancora di più, sta pesando, scusate, pesando ancora di più sul sistema e sulle risposte che riesce a dare il percorso guariti. E tutto questo rallenta l'iter delle verifiche. Ad oggi avrò raccolto, dice lui, una ventina di richieste specifiche, dice Dario Bartolucci, segretario dell'Ordine. Fra loro ci sono soggetti anche giovani, ma che non hanno mai presentato alcun sintomo della malattia e godono comunque di buona salute. Sì, perché adesso la gente vuole sapere, ma l'ho avuta, magari perché un giorno o due è stato un po' così così, vuole sapere se ha questa immunità, se non ce l'ha. È un po' la posizione di tutti i medici e quella di dissuadere, di sconsigliare un paziente a sottoporsi all'esame di ricerca degli anticorpi nel sangue. Caso diverso è se la richiesta al medico avviene su indicazione del datore di lavoro, in previsione delle riaperture, e allora lì sì. Sono già diversi infatti i casi che sto monitorando, ha detto il dottor Delbianco, e più della metà dei pazienti che si sono sottoposti al test presentavano gli anticorpi IgM positivi. Parliamo di immunoglobuline presenti nel sangue che sono indice di un contatto recente con un caso Covid e vengono prodotte dal sistema immunitario per prime in caso di infezioni. Quindi quando ci sono questi anticorpi IgM positivi, vuol dire che tu hai avuto, anche se non ti sei accorto, ma ce l'hai avuto, hai ospitato il Covid nel tuo corpo. E questo fa appunto supporre, scrive Letizia Francesconi, in questo articolo interessante, fa supporre una probabilità del 60% per il cliente di aver contratto il virus, del 40% di essere invece un falso positivo. E poi allora qui cosa succede? C'è la prova del tampone, e quindi si viene messi nella lista del percorso guariti. Che cosa succede? Che questa lista, ovviamente se ci si mettono anche quelli che fanno i test sierologici, si allunga, e quindi quelli che stanno male e che erano in quarantena e che hanno bisogno del doppio tampone, devono aspettare ancora di più. Abbiamo visto quanti sono coloro che sono in quarantena ancora, che stanno al domicilio. Quindi parliamo di migliaia di persone che devono essere, tra virgolette, liberate. Per quanto riguarda invece, questo è l'altro articolo che vi segnalo sul Corriere Adriatico di questa mattina, sospensione prolungata, infezioni che tragedia, parla l'assessore alla Sanità di Urbino contro la decisione di inizio marzo dell'azienda Marche Nord di chiudere il pronto soccorso per due settimane. E l'azienda sul caso non dà informazioni. La sospensione degli accessi al pronto soccorso di Pesoli di Fano di Marche Nord, iniziata il 6 marzo per l'emergenza Covid-19, è durata non pochi, ma diversi giorni. La drammatica lettera firmata in quella data dai dirigenti Berselli e Serrao ha intimato la centrale operativa del 118, se ne discute ormai da diversi giorni, di non trasportare temporaneamente pazienti dalle patologie di area medica, salvo le urgenze, e sono state paventate conseguenze anche penali per gli operatori del 118 se avessero disatteso queste indicazioni. Perché il protrarsi dell'opposizione a quella richiesta, già formalizzata il 4 di marzo in vano, ha messo a grave repentaglio e incolumità e sicurezza i pazienti. Insomma, si ripercorre un po' andando a ritroso quei giorni terribili di inizio marzo quando mancavano, vedete, i presidi personali, ritardi per i pazienti in casa, insomma. Si fa, col senno del poi, è ancora più incredibile, è ancora più terribile perché poi sai come sono andate le cose e quindi viene automatico pensare se si poteva fare qualcosa di meglio, se c'era un'altra strada da percorrere oppure no. E sempre Elisabetta Foschi dice rabbrividisco invece per la campagna di Ricci, il sindaco di Pesaro e vi invito a leggere comunque l'articolo. Invece a Senigallia va un po' meglio anche a Senigallia perché metà posti liberi riaprono e ripartino Covid dunque ieri sera solo 24 pazienti positivi dopo le dimissioni dal pronto soccorso a fine mese ripartiranno anche nell'ospedale di Senigallia chirurgia e ortopedia con il blocco operatorio. Trovato un donatore per l'Achi e sempre da Senigallia l'Achi dei Musaico il manager della band di Petrucci e Ferrandi autore dei Nomadi dunque va verso il trapianto di Midollo e lui racconta felice ho pianto di gioia posso dunque adesso tornare a sperare. Malata di Covid denuncia picchiata in casa la donna sessantenne del Fanese ricoverata a Pesaro con la febbre svela il motivo di tanti lividi nel corpo e lei dice ammette colpa di mio marito. È arrivata due giorni fa al reparto Covid di Pesaro con febbre alta sottoposta a tampone risultata positiva ma non è finita lì perché i medici si sono accorti di un altro particolare che la donna presentava lividi in molte parti del corpo chiesto il motivo di quei segni che sembravano indicare percosse la donna una sessantenne come dicevamo dell'entroterra Fanese sposata ha ammesso quello che fino a quel momento non aveva mai detto mio marito ha un'altra donna e dovendo stare a casa alza le mani in continuazione su di me io non l'ho mai denunciato per paura ma ora che sono anche malata dico tutto i medici hanno informato ovviamente la procura della repubblica che ha predisposto subito la misura dell'allontanamento dell'uomo e poi c'è l'articolo che Roberto Damiani questa mattina racconta sul resto del carlino mascherine state tranquilli vigiliamo noi invece da Pesaro arriva la notizia che c'è un ricercatore pesarese Daniele Ghezzi nell'equip bolognese che deve certificare appunto le mascherine al pool si rivolgono le aziende per ottenere la certificazione per essere dunque poi messe in commercio quest'anno i turisti saranno i pesaresi così come saranno i fanesi così come saranno i senigallesi così come saranno metteteci tutte le città che si trovano sulla nostra splendida penisola i bagnini sono al lavoro negli stabilimenti inizia il disgelo delle spiagge l'estate di prossimità sotto l'ombrellone quest'anno la faranno da padrone i pesaresi una decina di giorni fa il decreto regionale che sbloccava l'avvio della sistemazione degli stabilimenti balneari delle spiagge in attesa delle decisioni del governo sulle date della riapertura ai clienti i primi bagnini al lavoro dopo la comunicazione al prefetto poi alcuni giorni di pioggia ieri con il ritorno del sole diversi gestori hanno iniziato la manutenzione delle strutture balneari i cantieri invece ci sono anche molti imprenditori piccoli imprenditori che vogliono ripartire e tornare a rimettere mano ai cantieri che sono stati ovviamente fermati con l'arrivo di questo chiamiamolo e definiamolo tsunami i cantieri ora ci sono sì meno vincoli ma c'è comunque il rischio di infiltrazioni bene il patto per il rilancio dell'economia Cigelle e Cisle chiedono più cautela su alcuni aspetti i timori soprattutto per il settore alberghiero e per proposte speculative non identificate per quanto riguarda gli eventi qui siamo sul carino di Fano il clou sarà programmato per i mesi di agosto e settembre ci sono i primi programmi per il calendario posticipati il festival del brodetto passaggio e fano jazz ora va detto che queste tre sono le tre manifestazioni sulle quali si può lavorare e cercare di adattare un po' la questione perché comunque il festival di brodetto oltre agli eventi in cui si ascolta ci sono ci sono ci sono possibilità di far sedere le persone distanziate la stessa cosa passaggi si può mettere il pubblico un po' distanziato qua e là perché sono persone che stanno sedute così come a Fano Jazz ascoltano e quindi si possono organizzare in un certo modo dimentichiamoci però dice l'assessore Tia Lucarelli alle attività economiche e al turismo le manifestazioni come le abbiamo conosciute è chiaro che il distanziamento sociale non può essere attuato in manifestazioni come la Fano dei Cesari oppure i piccoli grandi eventi come le sagre le feste di quartiere non puoi dire alle persone di stare o di non ballare o di ballare a un metro e mezzo di distanza comunque sia ecco queste manifestazioni probabilmente quest'anno questo tipo di manifestazioni salteranno mentre si lavora per mantenere in vita con le giuste modifiche il Festival del Brodetto Passaggi Festival e Fano Jazz questo sì per quanto riguarda la resistenza oggi è il 25 aprile la festa della liberazione ci saranno celebrazioni molto risicate molto essenziali senza il pubblico soprattutto in tutta Italia ecco questa è la 75esima è il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo anche a Fano si celebra questa mattina ma non ci sarà appunto il pubblico ma ci sarà una diretta come scrive anche il giornale questa mattina su Fano TV l'inizio è alle ore 10 e 30 un giovane sorpreso con la cocaina all'uscita del casello autostradale sempre dalla pagina di Fano rovistando nella macchina i carabinieri hanno trovato un panetto di 180 grammi perquisita anche la casa di questo giovane che i carabinieri tenono d'occhio già da tempo si tratta di un 31enne di origine albanese che nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento continuava ad uscire spesso di casa e a incontrare fanesi già segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico apre con le sedute del Consiglio Comunale due in tre giorni il Consiglio recupera in rete online doppia convocazione per martedì e giovedì nella nuova modalità che è modalità da remoto stasi prolungate di 75 giorni per metterla a punto a mettere a punto la piattaforma e anche la formazione mentre sotto anche qui Etienne Lucarelli rassicura manterremo passaggi Fano Jazz rivisitati Lucarelli si impegna anche per il Festival del Prodetto tagliati invece tutti gli altri eventi in massa gli eventi di massa poi la libertà la libertà è preziosa come l'aria Fano Rocca omaggia Calamandrei video su Youtube per celebrare i valori del 25 aprile e del 1 di maggio sotto invece Davide Grilli è presente un singolo per la Carita si proventi delle vendite digitali dell'ultimo brano diretti a chi è in difficoltà e poi anche qui il Corriere ricorda la liberazione cerimonia austera con diretta tv presenti il sindaco serie e il presidente dell'Ampi caccia al DNA sotto le lettere incollate siamo sul Carlino di Pesaro di nuovo è su questo che sta lavorando la Digos che indaga sulla lettera minatoria recapitata l'altro ieri a casa del sindaco Matteo Ricci le minacce sono arrivate ma la mano che le ha scritte ancora è ignota trovarla appare difficile ma solo l'analisi sulla busta e sulla lettera da parte della scientifica e della polizia potrà fornire indicazioni importanti prima di tutto ci si aspetta che possano esserci rimaste tracce di DNA sotto il francobollo sul resto della busta l'inquinamento delle tracce è stato senz'altro preponderante visto che la lettera è stata recapitata da un postino e presa in mano dal sindaco al momento dell'apertura della busta poi bisogna vedere se è uno sprovveduto oppure se guarda le serie tv probabilmente avrà usato dei guanti oggi poi siamo quasi tutti costretti ad usarli magari li ha usati pure lui intanto vanno viste ed esaminate tutte le lettere ritagliate da giornali riviste per comporre la scritta intimidatrice e a quelle vanno staccate e accertato se sotto possa esserci rimasta qualche goccia qualche traccia di non goccia qualche traccia di DNA intanto il sindaco è già sottoscorta anche per attacchi neofascisti il precedente infatti lo ricorderete nel dicembre del 2017 al culmine delle polemiche roventi con Casa Pound che contestava il rifiuto del sindaco a concedere una sala pubblica per la presentazione di un libro di un aderente ora la però la tolleranza è vicino allo zero dice dicono dal comune di Pesaro denuncieremo chiunque offenda la giunta comunale con il vice sindaco Vimini annuncia un cambio di strategia per tutti coloro che commentano sui social network ma soprattutto che offendono sui social network da San Lorenzo in campo sostegno anticrisi a famiglie e imprese San Lorenzo il sindaco dell'ONTE dice stiamo lavorando su altre misure con le risorse che dovrebbero essere stanziate dal governo e la giunta comunale di San Lorenzo si è riunita in videoconferenza e ha varato un pacchetto di iniziative poi il brusco risveglio con il terremoto di magnitudo 2.4 un boato che ha accompagnato poi la scossa un evento sismico di magnitudo 2.4 che si è verificato alle 4.28 di ieri mattina all'epicentro è stato individuato a due chilometri a nord della frazione di Monte Maggiore al Metauro Urbino ripensare un modello di città sicura CGL CISL preoccupate in vista del 4 maggio osservano strutture ed infrastrutture scusate adeguate mentre la Foschi chiede l'UMI l'assessore alla sanità del comune di Urbino chiede l'UMI su medicina e interviene sul reparto di Urbino e la pagina del Corriere Adriatico l'autarchia del sindaco il sindaco I Gambini fa del male a questa città CGL e CISL chiedono di confrontarsi con Erdis e con l'università per programmare la ripresa i più deboli non siano i soli a pagare la crisi da Urbino sempre il segretario del PD dobbiamo ricostruire il tessuto economico misure per aziende e famiglie il comune di San Lorenzo dispone rinvii riduzioni e esenzioni per i tributi un pacchetto finalizzato dice ad agevolare la cittadinanza in difficoltà e poi sotto libri delle biblioteche da Fossombrone ora portati a domicilio l'organizzazione di Cometa in nove comuni anche grazie alla protezione civile carcere di Villa Fastigi protesta finita i reclusi avevano iniziato una contestazione per ottenere gli arresti domiciliari temendo il contagio covid la direttrice scrive una lettera e dunque fa tornare il silenzio dietro le sbarre del carcere raffiche di sanzioni con sequestro dell'auto e multa per il divieto di uccidere di casa un peruviano briaco sfiora un'auto dei vigili e va a schiantarsi e questa era l'ultima notizia della nostra segna stampa grazie per la vostra cortese attenzione vi auguro un buon sabato una buona festa e una buona domenica vi ricordo che alle 10.30 come abbiamo già detto nel corso della segna c'è la diretta per seguire questo momento breve che si terrà nell'ingresso della sede municipale della comune di Fano dove ci sarà questa deposizione della corona all'oro con il sindaco della città e poi gli altri appuntamenti che ormai ben sapete insomma nel corso della giornata grazie per averci seguito e arrivederci